Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Super Mario Bros. il film rende davvero onore al videogame. Così Chris Pratt, voce originale di Mario, risponde alle critiche arrivate sui social in merito al doppiaggio del personaggio animato. In Italia, dove il film esce il 5 aprile al cinema, la voce dell'idraulico, icona dei videogiochi Nintendo, è di Claudio Santamaria, che dopo Batman e Jacob torna a doppiare un personaggio fantasy. La voce della principessa Peach è in originale di Anya Taylor-Joy, in italiano di Valentina Favazza. I personaggi Luigi, Bowser e Todd sono doppiati rispettivamente da Emiliano Coltorti, Fabrizio Vidale e Nanni Baldini.